Parliamo di olio, abbiamo qui un'azienda olivinicola, l'azienda olivinicola Todisco. Qual è la vostra storia, la vostra origine? Siamo un'azienda che produce olio da quattro generazioni, un'azienda a carattere familiare, però abbiamo sviluppato dei piccoli accorgimenti per poter avere un olio di alta qualità, quindi un olio che può andare bene su tutti i tipi di minestre, quindi abbastanza corposo e profumato. Adia sì, infatti siamo venuti qui a Budapest per capire un pochino quali sono le tendenze anche del vostro paese. Quindi la vostra zona, come si può vedere da alcuni prodotti, è piuttosto famosa. Sì, siamo nel comprensorio dei trulli e delle grotte, i trulli di Alberobello e le grotte di Castellana, nonché il mare di Monopoli e quindi l'Adriatico e le colline poi della zona della Valle d'Itria.